oggi camilla fa la spesa ecco già siamo fermati cosa vuoi prendere un libro di che libro si tratta vediamo un po cenerentola va bene dai subito dopo il libro prendiamo anche le patatine visto che ti piacciono molto poi la carne si fa bene poi dopo la carne cosa prendiamo il pane noi a casa ne mangiamo troppo camilla di pane buono pane i baby bell ah i baby bell che è la tua merenda preferita adesso dove andiamo a casa camilla combini sempre guai cosa io mi cado ma sei una golosona dai andiamo a pagare è carica e alla fine come sempre mi spingi ciupa ciups ciao 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 Grazie.